Quante volte nella vita avete mangiato un polpo gommoso, un polpo che sembrava gomma, una roba immangiabile, una roba schifosa, una roba che non si poteva vedere? Tutto dipende dal fatto che il polpo non è semplicissimo da cucinare, o almeno così creerevo. Poi, grazie ad alcuni amici, ho messo le mani su una ricetta per cuocere il polpo, che tra l'altro ho anche visto fare in una delle puntate, diciamo, dei momenti del corso che viene organizzato annualmente da Broil King. È una cosa molto interessante da fare, semplicemente vi serve un polpo e altrettanto semplicemente vi serve il barbecue. Può avere un fuoco, può avere due fuochi, può avere tre fuochi, quindi uno, due, tre bruciatori. Nel mio caso i bruciatori sono quattro e vedete che ho acceso soltanto a metà della potenza il bruciatore totalmente a sinistra. Questo perché? Perché avrò bisogno di una temperatura molto molto basica, molto molto bassa, quindi diciamo intorno ai 100 gradi. Questo perché il polpo, nel mio caso fresco, ma potrebbe anche essere congelato, non servirebbe necessariamente un'operazione particolare per prepararlo, deve cuocere dentro la sua acqua. Ovviamente non vi basta. Il barbecue alle mie spalle. Vi serve una wok, una wok che può essere, come nel mio caso in porcellana, in ceramica, scusate, in porcellana. In ceramica può anche essere distrutta, può essere stata distrutta dal corriere che l'ha consegnata, però diciamo che va benissimo. In generale avrò bisogno di poco altro, soltanto di un coperchio che vada a sigillare, praticamente, la mia ampia superficie a disposizione. Naturalmente il polpo si cuocerà nella sua acqua e servirà del tempo per fare, perché questo succeda. Quanto tempo? Ma chi lo sa. Come sempre vale la regola quando è cotto e cotto. Però diciamo che possiamo stimare intorno alle due ore e mezza, alle tre ore, anche a seconda ovviamente, del peso del vostro polpo. Io ne ho uno che è intorno al chilo e tre, ma vando alle ciance. Andiamocelo a vedere, questo polpo. Ecco qui il mio polpo. Che bello. Un chilo e quattro più o meno. L'ho preso su I Love Ostrica. L'ho comprato su I Love Ostrica. Costa circa 40 euro al chilo, perché proprio è fresco e soprattutto arriva dal Mediterraneo. Che cosa dobbiamo fare con il nostro polpo? Allora l'abbiamo preso, l'abbiamo sciacquato. Adesso, ovviamente, dobbiamo semplicemente posizionarlo dentro la nostra wok. Vedete che naturalmente i tentacoli vanno ad allargarsi. E poi ci serve, come vi dicevo prima, un coperchio che ci consente di vedere quello che sta succedendo all'interno. Semplicemente perché, come vi dicevo prima, dovrà cuocere nella sua acqua, quindi l'importante è che l'acqua non si asciughi. Per quello la temperatura di esercizio sarà sempre intorno ai 100-120 gradi, in modo tale che la cosa non si asciughi, che l'acqua rimanga presente e che poi tutto si cuocia. Andiamo quindi adesso a stabilizzare la temperatura del nostro Regal 490 e poi andiamo a buttare dentro il nostro polpo. Ho quasi raggiunto i 100 gradi, naturalmente con un unico bruciatore acceso su 4 e tra l'altro neanche messo alla massima potenza, sto salendo lentamente. Però la cosa importante è che qui non ho prima bollito il polpo, non l'ho impreziosito di aromi, non ci ho fatto sicuramente e semplicemente nulla. L'ho semplicemente buttato nella wok, wok che adesso andiamo a prenderci, visto che ci stiamo avvicinando alla fatidica quota 100. Semplicemente andremo avanti così, senza aggiungere niente, senza fare niente. Poi magari intorno alla fine, quando inizieremo a vedere che insomma sarà facile entrare con una forchetta nella polpa del polpo, bella battuta, si può dire polpa del polpo? Boh, vabbè, magari faremo delle patate, polpo con patate, ecco, proprio da ristorantino così, d'altronde qua, ragazzi come vedete siamo al mare, quindi manca solo il mare qua al mare, c'è il resegone però. Allora ragazzi, eccomi a quota 100, cercherò di fare tutto molto rapidamente, anche se con una mano sola, che la wok lì, più il peso del polpo, insomma, mi richiede il bicipite, quello proprio da, mi da, ce l'avete capito, no? Allora, rapido, rapido, bruciatore acceso di qua, di qua è spento, acceso, spento, acceso, spento, quindi dovrò metterlo di qua e di qua no, di qua sì, di qua no, di qua sì, di qua no, vabbè, mi sto incartando. Allora, 100 degrees, 1, 2 e 3. Dio quanto pesa, chiudiamo, e basta, basta, eccolo qua, fatto tutta l'operazione nel giro di 6 secondi, adesso vado a mettere la mano in ghiaccio, che è distrutta, ce lo controlliamo così e lo lasciamo andare, vai polpo, vai, 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 Dunque, ragazzi, sono passati tre quarti d'ora e vedete che la temperatura sul mio Regal è sempre bloccata a, direi, sui 110, 115, aprox. Vediamo velocemente cosa sta succedendo nel mio polpo. Vedete che sta iniziando a formarsi la quetta, eh? Attenzione, eh? La quetta, eh? C'è la quetta quasi, eh? Guardate, vedete lì la quetta, tac? E vedete che colore ha preso, vedete l'altra acqua qua, noi continuiamo a farlo andare senza indugio, per cui, ma niente, potremmo ubriacarci, potremmo fare altro, potremmo studiare, potremmo fare ginnastica, merenda, aperitivo, organizzare così, altre cose, programmi per l'estate, mandorniamo. Sono passati altri 45 minuti, vedete che la mia temperatura è assolutamente costante, andiamo a vedere velocemente, vedete l'acqua, 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 che ci sta dando una grande mano perché il polpo sta cuocendo al suo interno, noi continuiamo a lasciarlo andare, ciao polpo. Allora, è passato un totale di circa due ore e dieci da quando ho messo sul mio polpo, sempre a 110, vedete che adesso ce n'è tanta di acqua, ci sono tre dita di acqua, quindi adesso cerco di portare la temperatura leggermente più alta per passare da 110 a 125, quindi sposto un filino il bruciatore, però in realtà non voglio spostarmi più di tanto. Diciamo che una volta che arrivo in fondo potrò mettere all'interno la mia forchetta e se la forchetta non incontra resistenza è tutto pronto, potrei anche pensare di aggiungere un bicchiere d'acqua all'acqua che è molto salata l'acqua del polpo ed è questo il motivo per cui non ho messo alcun aroma, non ho aggiunto sale eccetera perché sta cuocendo nella sua acqua, la sua acqua che io sappia è salata perché non ho mai visto un polpo nel lago, però poi potrei anche farci un tagliolino all'uovo dentro quell'acqua lì, potrei risottarlo sempre usando la wok, lo farò? Boh, non credo, non credo di avere tagliolino all'uovo in casa. Mi si palesa un problema e il problema è questo qui, intorno a me si è alzata la bora e in chiave mantenimento della temperatura non tanto ovviamente a prodotto chiuso quanto per farvi vedere che cosa sta succedendo all'interno del mio Regal 490 ho qualche piccolo problema, ma intanto vedete la telecamera sulla mia faccia quindi magari mi sposto un attimino all'ombra e siamo messi un pochino meglio. Allora quindi adesso cerco di aspettare che passi la folata perché sono arrivato più o meno a livello di tempi di cottura è quasi a tre ore per cui adesso volevo fare un check spostando il coperchio e vedendo con la forchettona come fossimo messi all'interno del polpo, tra l'altro non faccio stasera il tagliolino nell'acqua del polpo, però la conservo l'acqua del polpo e domani sera magari ci faccio un bel tagliolino sempre con delle sepe che ho comprato e vediamo un po' cosa avviene, se è un apporcato oppure se funziona. Intanto allora andiamo a vederci un pochino questo polpo, vedete infatti come vi dicevo che per ribilanciare la temperatura sono tornato intorno ai 180, qui ho una straordinaria forchetton, è il forchetton, attenzione, attenzione, sentite l'affolata, non so se la sentite dai due microfoni della DJI però vi garantisco che c'è e non c'è poco vento per cui il mio terrore è che all'interno tutto vada un po' a farsi benedire, potremmo magari aspettare, aspettiamo qualche minuto e vediamo cosa succede va, andiamo. Allora in alcune parti fa un pochino di resistenza, in altre meno per cui lo risigillo e ci rivediamo tra un'altra mezz'oretta, ciao polpo. Intanto abbiamo tagliato la patata a pezzi grossolani, la facciamo nella pentola a pressione così almeno riusciamo a farla lessa in un tempo relativamente contenuto, lo stesso che dovrebbe servire a noi per non soltanto ultimare la cottura del polpo ma anche e altrettanto soprattutto perché soltanto in questa maniera riusciamo a farlo riposare barra raffreddare. Quindi adesso dobbiamo soltanto buttarsi le patate, tengo gli occhiali da sole dentro perché... Ok siamo arrivati a circa 3 ore e 20 di cottura, noi ci stiamo mettendo, messi le guante e voi vedete un po' a caso con questa ripresa un po' così, un po' velleitaria. Abbiamo ancora i nostri bei 100, abbiamo ancora il vento intorno a noi quindi facciamo velocemente, il profumo è spettacolare ragazzi. Poca fatica, allora se vado sui tentacoli, i tentacoli sono perfetti, la testa è perfetta, qui incontro ancora un filino di resistenza e non mi pongo alcun problema, ma cioè lo lascio andare ancora un pochino, anzi adesso quasi quasi, sì lasciamolo qua, dai lasciamolo andare avanti ancora un po'. Ok e dopo un ultimo check con la forchetta il polpo è con, 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 mi sono incantato, il polpo è pronto quindi adesso spengo il mio bruciatore, ho spento e lo lasciamo riposare in acqua per un pochino, non lo voglio particolarmente freddo quindi me lo tengo bello tiepido quindi lo lascio tranquillamente riposare lì per un po'. Allora l'ho lasciato riposare, è ancora bello caldo, però lo vado a togliere dalla sua acqua, un po' se riesco. Ho fatto il lago. Eccolo qua, ok, eccolo qua sul mio tagliere, ho già tagliato un tentacolo, wow, wow, un po' al sole, un po' all'ombra, un po' a caso, dai faccio un passo indietro, ecco. Onestamente è un burro, vorrò traermi tutto il resto e vado a mangiarmelo. Ovviamente è servito con la patata e basta e niente a chiù, vivo al polpo. Allora ci abbiamo messo un bel po', l'acqua in cui si è cotta la lasciamo qui, la continuiamo a far raffreddare e la utilizziamo domani sera per farci un tagliolino o qualcosa del genere come vi ho detto. Il polpo invece ce lo finiamo stasera. Ragazzi come sempre per domande infochiocciolabbcool.it Per invece tutti i dubbi che mi vengono in mente, le foto che volete mandare anzi, il Bornos Via Derek su Instagram. Il polpo, un esperimento riuscito, molto semplice da fare e anche bello sapido perché è stato cotto nella sua acqua, non è per nulla gommoso. Sono contento, bene così. Allora giunta al video del polpo, il polpo è venuto benissimo per quanto riguarda i tentacoli che infatti ho assaggiato, però va detto che invece è rimasto un po' duro nella parte centrale. Mi sono confrontato con un po' di amici che l'hanno già fatto e secondo loro ha cacciato troppa poca acqua. Quindi il fatto che abbia rilasciato soltanto circa 33 cm, quasi una lattina di acqua e basta, forse ha compromesso la cottura. Secondo altri invece era troppo alta la temperatura, questo è possibile, la prossima volta anziché andare a 110 lo terrò a 100, però diciamo che ce lo siamo mangiati lo stesso. Diciamo che poteva venire meglio, sì. I tentacoli belli morbidi, ripeto, invece per quanto riguarda la parte centrale è un pochino dura, quindi soprattutto quello che restava fuori dall'acqua non si è cotto in maniera perfetta. Questo era doveroso raccontarlo, come sempre raccontiamo i successi ma anche in mezzo ai fallimenti. Ragazzi alla prossima! E nel prossimo video ci facciamo il cappello del prete, un taglio che si trova un po' più facilmente nel taglio brisket, almeno qui in Italia, almeno qui in Brianza, però noi lo faremo proprio brischettato questo cappello del prete. Ma chissà come viene!